noi rimaniamo in zona podio per effettuare la premiazione dei cento parfalla ragazze terza e medaglia di bronzo Francesca De Nardi in otto l'inuoto settantaquattro uno zero sette e sessantatré seconda e argento in uno zero sette cinquantasette Ludovica Zarpellon Rosà primo posto è medaglia d'oro vincitrice dei cento parfalla ragazze in uno zero cinque quarantuno Emma Aver Leo Sport presentiamo la quarta serie cento rana esordienti a femmine in uno Rachele Caldara in due Sofia Gugiaro in tre Chiara Migliavacca quattro Anna Dalpras cinque Greta Ceolin sei Giulia Gosetto sette Giulia Mattiuzzi otto Sara De Biasi prossima premiazione è quella del cento parfalla ragazzi maschi terzo e medaglia di bronzo in cinquantanove quarantadue Giovanni Barrison con Mirano nuoto Giovanni Barrison alla medaglia di bronzo alla medaglia d'argento per i nuotatori trentini Nicola Bragania cinquantanove trentasette e vincitore della medaglia d'oro in cinquantanove ventuno per l'antare snuoto Alessio Gerardin vittoria analoni intanto uno trentasei e trentasette si aggiudica la quinta serie